E' successo di tutto, è successo di tutto, Inter-Barcellona post partita, signore, il primo tempo, parleremo un po' di Ajax e Napoli, anche se ho visto solo Inter-Barcellona, di Ajax-Napoli vi dirò un po' il risultato. Detto questo, Inter-Barcellona 1-0, primo tempo. Allora, me la sono vista tutta partita, non con grandi occasioni dalla parte del Barcellona, che magari a livello di qualità, senz'altro, ha fatto magari qualcosa in più, però l'Inter nel ripartenze, e nel passare dei minuti ha guadagnato tanto campo, ed ha sbloccato meritatamente il vantaggio con la calcia alla Novo, al fine del primo tempo, al 45esimo, è un quello importante, perché secondo me l'Inter doveva vita, non mi aspettavo l'Inter in vantaggio, mi aspettavo magari che quando era sotto potesse pareggiare, però vedremo, secondo me, ora come ora, intanto, devo mantenere la calma, e poi staremo a vedere, perché l'Inter ha fatto, secondo me, un'ottima partita, non tanto ripeto, Baccellona a centrocampo magari aveva mantenuto più la palla, con Dembélé qualche volta, faceva, creava qualche pericolo, però l'Inter ha creato le maggiori occasioni, decisamente meglio Correa del solito, gol annullato in fuorigioco, anche abbastanza netto, però a parte il gol annullato, anche era bello, ha fatto decisamente di più, per quanto riguarda Lautaro, allora, se non c'è fuorigioco di Lautaro, lancio di Devrai mi pare, Lautaro tipo Chiso ragazzi, sembrava regolare, sembrava regolare, prende perché c'è stato un tocco di mano di Busquets, l'arbitro è andato a rivederlo al bar, e poi se andrò fuorigioco di Lautaro fuori di un centimetro, prende, grazie a questo fuorigioco automatico, veramente, il calcio sta, cioè in Champions League è fondamentale, perché veramente, ti cambia la vita, cioè io temo che se non ci fosse stato un fuorigioco automatico, difficilmente su me, non sarebbe stato fuorigioco, quindi tanto di cappello a chi l'ha inventato questa nuova tecnologia, ovvio che siamo su all'inizio, però è già buona, per quanto riguarda, appunto, nei primi 5-10 minuti l'Inter ha fatto niente, probabilmente, se non un tiro di Cianoglu alto, grande parata Inter 3 che la deve fare, appunto, alta su attraverso, poi dopo il tiro di Cianoglu un po' l'Inter si sveglia, se non erro, vabbè, a parte proprio Lautaro, la mano lì, il gol di Kuren ha un altro tempo di gioco, il gol di Cianoglu, tiro la sotterra, messo alla sinistra di Ter Stegen, insomma, senza, no, alla destra di Ter Stegen, vabbè, lasciate stare, c'è inz'altro un Inter che ha meritato il vantaggio, vabbè, il possesso Pada a favore del Borussia come dicevo prima, però 5-5, 2 in porta per ciascuna delle squadre, però, a parte di temere sulle senarete il Barcelli non è che abbia fatto una grande partita, cioè mi aspettavo qualcosa in più, però c'è tutto un secondo tempo. Detto questo, adesso passiamo a Ajax Napoli, partita che sta sul 4-1, e doppietta di Raspodori, i gol di Di Lorenzo e i gol di Zambangissà, ah no, su Attenzinski, su assist di Zambangissà, ma chissà, però Napoli che fa veramente un grande calcio, e che, allora, non l'ho vista questa partita perché ero convinto che Napoli vincesse oggi, e Napoli che, da quant'è che non perde il Napoli? Da quant'è che non pareggia la vita? Si trova in uno stato di forma straordinario, io non so se sia perché in Napoli c'abbia pochi giocatori infortunati, se non Osimène, perché a parte Osimène non mi pare che ci siano altri giocatori infortunati, però Osimène è un grosso infortunio, però, veramente tanto di cappello, veramente Raspodori, in un periodo di forma straordinaria, e Napoli sta girando veramente bene, Kim sta sostituendo Kulbali bene, quindi un grande Napoli, che si sta meritando questo successo, ha dominato il campo dell'Ajax alla Jungrà e Farina, vedremo se non è un po' il secondo tempo, guarderò se intanto Interbaccio in l'ora, visto che il Napoli già sta sul 4-1, magari è solo un inizio, nel senso che comunque, il Napoli parte spesso bene, però poi cala, vedremo, vedremo cosa succederà nel secondo tempo, ci vediamo dopo. Facciamo che ci soffermiamo un attimo su Ajax a Napoli, cioè, lo devo fare, complimenti, 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 bravissimi, complimenti a voi, 6, 6, potrete dire tutto, l'Ajax non è fermo, non me ne frega niente, 6, 6, 3, a Rangers, e 4 a Liverpool, 6 più 3, a casa mia fa 9, 4 più 9, 4 più 9, fa 13, 13 gol in tre partite, 4 gol a partita, sono una media, e 2 gol subiti, in tre partite. ho già detto tutto, che Napoli signori, non l'ho vista, però, l'unica cosa negativa, è uscito, fuori dal campo, con la schede, ma del resto, serata perfetta, per quanto riguarda l'Inter, ragazzi, su, ragazzi, fatemi dire che, è un po', una tristezza, perché, il primo tempo è stato positivo, ma secondo tempo, ragazzi, non ha fatto niente, non c'è stata un'occasione, buona per l'Inter, buona per l'Inter, che meritava il Barciano, senza fatto il pareggio, su questo, ragazzi, perché, ovviamente, gol di Petri, ha nuovato per una mano ai Fati, che non cambiava niente, secondo me, l'azione, però, ci poteva anche stare, che non andavano, il secondo, mano di Dumfries, e vabbè, lì, ci può anche stare, perché lì, comunque, la mano era attaccare al corpo, quindi, anche su, cioè, sul secondo, sulla seconda mano, stavolta, stavolta, appunto, mano appunto di Dumfries, ma non è che condiziava molto, finisce qui, Inter sei punti, Barcellona tre punti, madonna, cioè, in tre punti fondamentali, però, io, quest'Inter, secondo me, aiutava, io non ce la vedo, non so, questo presentino, perché intanto, deve andare a Barcellona, a giocare, e, deve andare, contro il Victoria Bowles, sono tre punti, però deve anche andare a Monaco, a Monaco, cioè, il Barcellona, chiaramente, ora, secondo me, il Barcellona è ancora un po' più avanti, perché, ripeto, che Inter tra una settimana, c'è ancora il Barcellona, compro, fuori Lukaku, Darby a Nonal meglio, e quindi, c'è il giocatore contati, quindi, vedremo, per me, il Barcellona è ancora favorito, sul passaggio di T1, staremo a vedere, staremo a vedere, sono molto curioso, a parte, spettacolare, veramente, le statistiche, guardate il possesso, solo il possesso, ragazzi, e non è un po' lo stesso ballastere, perché ogni volta, il Barcellona, entrava in area, creava pericoli, 5 di a 7, 2 ti rimporta, 2 è tristezza, però, veramente, l'Inter che si porta a casa, 3 punti, senza altro, è stata, ha fatto una buona partita, perché comunque, chi inizia ha sempre ragione, però, detto questo ragazzi, noi ci vediamo in prossimo video, vediamo.